Ok, ho visto alcune cose qui oggi che non succedono, ok? Ok, niente è successo, quindi questo video non uscirà, credo. Buongiorno. 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 Stiamo andando a fare un'esperienza a tema The Boys 3. Sono le 5 e mezza di mattina. Io sono diretto all'aeroporto di Fiumicino per prendere un volo per Londra. Quindi è così che pare il mondo alle 5 e mezza di mattina. Buongiorno, buonasera. 7 e 20. Eccoci. Sta succedendo una cosa, sta succedendo una cosa. Stiamo per volare via. Credo che la volta abbia mietuto la sua prima vittima. Siamo atterrati a Londra. Ma c'è un problema. Gli Space Valley non ci sono. Il volo è in ritardo. È in ritardo più o meno di un'oretta. Nella valle spaziale non ci arrivano gli aerei. Questi qua si ostinano su sta valle. Saranno arrivati anche gli altri? Ma soprattutto, che c***o è questa esperienza che dobbiamo fare? Siamo arrivati all'hotel, tutti separati, ma ci riuniremo adesso. Ma si è arrivato prima di me? Certo. Guarda. Qui è il signor Grimbaule. Sono io purtroppo. Adesso andiamo a fare l'esperienza immersiva a tema The Boy. Siete pronti? Cos'è sta roba, zio? Che hai portato? Ma l'ha portato da casa? Ragazzi abbiamo... Ma poi è una piscina! Signori... Con i fiorelline per ragionare il contrasto. Ma che c***o è? Che cos'è? Lo scoprirete dopo. Sappiamo soltanto una cosa. Che da qui... Ma che c***o è? Ma che ha fatto io? Siamo impazziti. Guarda che è quella venenosa davvero. Da qui inizia tutto. Allora... La produzione ci ha fornito quattro boccette di Compound V, che credo sia l'Histerine in realtà. E credo anch'io. Quindi adesso ce lo distribuiamo così poi ognuno si può scegliere il suo superpotere. Ok. Ma io non me lo posso scegliere, è quello che mi capita. Vero che ti capita. Scusate. Moon e Grimbaule l'hanno già preso, infatti sono invisibili. Ma sono qua. C'è lì, lì dietro. Saluta. Bella, b-bro. Ciao brother. Cheers. Sì, proprio. Cheers. Ciao, è andata. Madonna. Ragazzi, ma... Non è quello che mi aspettavo. Hai le mani. Sei diventato barba scura. Io ho il potere dell'ansia. Il programma della giornata è questo. Noi adesso stiamo andando qui a Shoreditch, cioè dove c'è la location. siete stati incaricati di infiltrarvi all'interno della sede VOT inglese. L'obiettivo è sopravvivere. Sopravvivere, sì. C'è una possibilità che qualcuno di noi rimanga morto in questa cosa? Buono. Sì, io probabilmente. Buono. Non ci siamo. Ok, ecco. Sei pronto? Noi. Noi. Sì. Sì, siamo italiani. Sì, siamo italiani. Questo è il problema. Ok, voi sono qui adesso, quindi grazie per arrivare. Sì, siamo Ashley Herman, Head of PR. As you might have gathered, or maybe your boss told you, there's been an incident. Stop squawking in my ear shower. I'm trying to fucking do, you fucking cretin! Take that please, no, can't deal, no time. What was I saying? Yes, there's been an incident. It's a big job. There's a lot of mess. But, apparently that's what your team do best? Yes. Yes? Perfect. Let's get going then. Yes. Ah! I think she's dead. You can take this then, please. Can you be in charge of this? Ok. It's a list of the employees on the first floor office. Ok. And we need to identify all of the deceased bodies that are lying around. Ok. We need to identify the corpses. We need to identify the corpses. We need to identify the corpses. No! That shit. Oh, on, this is not the case. Oh! It's okay. It's okay. Sorry, sure. I'm thinking... No. It's okay. No team, it's a issue right now. He's like the�. As you can avoid it. As you can avoid it. That's right. You areание! c'è una stanza piena di peni c'è un'indagine federale sangue e pene no che schifo ragazzi ho risolto il caso vittor grey è morto posso chiedere che cosa sta succedendo mauro c'è uno vivo come c'è uno vivo no 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 non so so sorry what's your name we have to cut from the list one second who did that to you she she ain't like nothing i understand she she ain't like nothing i'm trying to stop you you look wiz right she got cameras and that right you gotta find her you gotta warn the world right you gotta show people what she is ok ok in security room in security room oh i'm tired you broken what we can do olivia 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 oh ok olivia jones che do morto 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 mortello un momento di briefing si un momento di briefing grazie prego ragazzi un attimo abbiamo trovato una persona viva che però stava morendo si l'ha uccisa qualcuno c'è un filmato nella security room si che fa vedere chi è ma la sua card per entrare nella security room c'era olivia che è lei non è lei olivia si guarda 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 olivia è che non è olivia si si abbiamo il pass di olivia abbiamo il pass di olivia ok ok abbiamo il pass di olivia beh piatti oh oh ci sono dei video pornografici ovviamente non mi lascerò a farlo al basement perché non mi lascerò a fare il mio lavoro e tu puoi mettere il più piccolo finger non mi lascerò a farlo se non mi lascerò a farlo non mi lascerò non mi lascerò ah ma for- bellissimo bellissimo ah eccola dove è finita ah ok vabbè dai che è un posto portante che mi ricordi io Emily ah non è proprio delle video comunque pesa proprio con una roba che cosa? che stai facendo? vai al tuo oh ma che fai? ah ragazzi aspetta ah allora il problema è che per scendere giù per le scale serve il riconoscimento della mano noi abbiamo una mano per fortuna è il telefono ma c'è un telefono in speaker non è abbast... ah ah ok ah hi hi it's a nice to meet you and my genius down to the basement yeah yes shall I leave the way? nothing to be worried about ok ha detto nothing to be worried about ok in romano si traduce tranquillo e morto in culo so everything is alright everything is fine everything is fine perfetto it's I just have some blood on my hands eh guarda sotto ah ok c'è una piccola vieni 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 credo sia morto ma scusami ragazzi ma in tutto questo moon secondo te che cosa dovremmo fare? a sto giro si andiamo vieni vieni борterle vieni vieni hai pesca vieni 5 letra Non aspettare troppo d'arruina Questa si è una big pig Dio che è più cazzo che c'è bello, quindi non aspettarci troppo d'arruina You do have to be careful because his piss His piss Is toxic Is toxic And we found out recently his sperm Is corrosive to metal Ah, to metal And to ladies? Ok come in I need to go and deal with Bulbas Will you make sure Leila, she needs feeding Dobbiamo dare da mangiare a Leila Vai Oh No Leila, I'm not hungry Leila Did you hear what she said about my cum? No, she said it's corrosive to metal Yeah It needs to be used to get out on the lock We need to use the sperm to escape And then we must do it 402, 402 Eccolo, eccolo Use the sperm to take a tiny bit Give to Leila Ok Atenzione Ovra, ovra Grazie ragazzi I'm gonna kill that bit We need her We need her eyes We need her eyes Aaaah Ok Smile, like nothing's happening Normal Normal Vai vai Grazie Distragila tu, che ti piaceremo Everything is alright No C'ha vista, l'ha vista Ah Bravo Aia Aia Lo finisce bene Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Here, I got my eye Yeah, let's go Let's go Echo Use the eye, who wants to do it? Oh, oh Oh, oh Oh, oh C'è il V, c'è il V Coltello Dobbiamo prendere il V da questo frigo Ragazzi, ci sono dei bambini dentro queste cose Non guardare i bambini Dobbiamo prendere il V da questo frigo riferò Ma c'è un lucchetto con una combinazione Aspetta, mi trovi mai il derloch a bin change To Felicity Birthday Di questi bambini è Felicity Felicity, e lei? E quando è nata? 12, 02 02 Fatto Aperto Ah Quante ne vogliamo? Una testa Questo è il V Questo è il composto V What the fuck, man Io me ne vivo un po' di più Tu sei la madre Agolta questo soni venne What are you guys? What are you guys? What are you doing here? We are trying to get out I'm Victor I'm Chipsy I'll get you out Ok? If you wanna stay alive, follow me Ok, ok Ok Ok, 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 ok Mi sono cagato sotto, ragazzi To me Hey No, no, no No, no No, no, Jenny No, no No, no Jenny 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 They tricked you Jenny All of you are making heroes They're making terrorists They're making terrorists Faster Easy Easy Jenny 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 Get out I'm gonna tell her Jenny Shut your fucking mouth Come on Jenny Don't fucking move Don't fucking move Fucking move Gimme, gimme, gimme I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need When it's the reaper takes my life No you're gonna get me out alive I will live a dozen million lives My patience is raining Is this entertaining? My patience is reining Is this entertaining? I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Is this entertaining? Oh Wow Le'st'a massacrando Hello when I'm in the bathroom associated He's feeling He's EVER waiting He's What the fuck's going to say? Listen But Hold on テ opp Me Ok, ok, niente è successo Quindi questo video non uscirà, credo Posso dire che se ne poteva parlare Adesso ci regalano un vestito No ragazzi scusate, Mamun e Green Green ci stai? Ma pensai che ci hanno persi di vista Mi sa proprio di sì Ma io ho perso di vista me e te Ci siamo ragazzi Stiamo vedendo la prima puntata In anteprima di The Boys 3 Qui a Londra Oggi godiamoci lo spettacolo Allora ragazzi direi che la nostra esperienza finisce qui Quindi abbiamo visto il primo episodio ed è Io credo di non aver mai visto così tanti peni in vita mia Chiudete questo vlog Andate a vedere la serie se ancora l'avete vista Perché è già uscita quando questo posto era uscito Ragazzi Buon uretra Buon uretra a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti